Crazy Love Television Una meravigliosa sorpresa Arriviamo a casa vostra Mi sembra quasi una televendita Ma invece no Perché i nostri contenuti sono davvero spettacolari Vuoi regalare qualcosina alla tua ragazza? Magari arriva San Valentino Magari tua moglie ti devi sposare Vuoi fare pace con il tuo partner? Basta chiamare Gigi Griscuolo, il nostro editore Vittorio Boe e Carmelo Donnarumma Radio.0 Arrivano a casa tua Per info e contatti In sovrimpressione ci sono i numeretti Quindi alza la cornetta Perché Crazy Love ti aspetta Crazy Love Television